oi ma tu non vieni alla partita ma quella partita con tutti i problemi che c'ho soldi eh eh pagati qua pagati là pagati non basta mai ma con la tua pagata operaio puoi fare un sacco di cose senti vai alla ifi loro ti fanno un prestito e poi risolto tutti i tuoi problemi e dove la trovo la ifi dai 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 monta su che ti spiega ecco e da oggi puoi telefonare gratuitamente a questo numero verde ifi risolve sempre